Il nostro umido pianeta ha solo una piccola chiazza marrone dove non esiste nessuna traccia di umidità. È il grande deserto di Atacama. Avvolti nella polvere stellare, gli scienziati di tutto il pianeta costruirono qui il più grande telescopio del mondo. La scienza si innamorò del cielo cileno. È questione di scoprire le origini dell'essere umano, del nostro pianeta, del sistema solare. Da dove veniamo è una domanda fondamentale. Ho sempre pensato che magari i telescopi non guardassero solo il cielo ma potessero guardare anche attraverso la terra così da poterli trovare. Per 17 anni Pinochet ha assassinato e sepolto i cadaveri di migliaia di prigionieri politici. Le donne che cercano i propri morti pretendono una risposta dai responsabili di queste sparizioni. Chi ha memoria è in grado di vivere nella fragilità del tempo presente. Chi non ce l'ha non vive da nessuna parte.